Cari amici, oggi vi faremo ascoltare un po' di segreterie telefoniche arrivate nella pernacchia, vero Daniele? Buenos dias, io soy il ex tenor Flacido Domenchio. Volevo dire a vosotros che non mi gusta mucho che voi fate a escuchare la mia voz quando cantavo la tenore. Adesso sono baritono e voglio restare baritono per tutta la vita o lo che mi resta. Appuntamento per il Simón Bocanegra. Grazie. Buongiorno, sono il tenore Andrea Porcelli. Volevo dire che a te stasera faccio un concerto di beneficenza in favore delle anguille focomeliche. L'anguille focomeliche sono i malucci e unciano le braccine e allora si sta cercando il modo per capire perché unce l'hanno. E per fare questa cosa servono dei soldi. Ovviamente, tolto il compenso per me, il compenso per l'orchestra e l'affitto del teatro, tutto ciò che non avanzerà sarà dato in beneficenza. Vi aspetto al teatro dell'orco, mi raccomando, venite numerosi e se non potete mandate un messaggino al numero che vedrete in sovrimpressione. E saranno 50 euro regalati a questa bellissima iniziativa umanitaria. Grazie mille a tutti quanti. Buongiorno, sono Giovanna da Firenze e volevo dire che la cosa a una mia garba amica, ho detto a un certo di una truffa. L'anguille lo sappiamo tutti e non c'hanno le trampette. L'anguille focomeliche non esistono. Esistono invece i tapiri senza coda e questo concetto lo dovreste fare per tapiri senza coda, non per l'anguille focomeliche. Vergogna, vergogna! Buongiorno, sono Gino d'Azena e ho sentito la telefonata e le telefonate di prima. E per l'anguille focomeliche non c'è mica nessun problema, neanche per i tapiri senza coda. Io ho delle forniture di trampine e di coda di gomma, di plastica, possiamo attaccarle su. Ve le vendo per un buon presso, ci mettiamo d'accordo per le palanche. Ciao a tutti, lascio il mio numero in segreteria. Da l'Andi. Buongiorno, sono Tapio, dalla provincia di Venezia. Volevo dire, protestare perché non è possibile che gli fa concerti di beneficenza per tutti questi animali. Ma che c'è anche i babà, i babà, i babà, i bussietti, insomma, Sargele fa qualcosa, anche a papà, fanno altri. E c'è un problema anche a questo, eh? E che cavolo? E se sentivo i complimenti per la trasmissione, c'è proprio una gran monata.